Buonasera, Capovani Consorzio del Parmigiano Reggiano, sono un agente vigilatore e dovrei fare il controllo sui fasi di produzione del confezionato. E' Lara, signor Capovani del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Prego, si può accomodare. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera. Buonasera. Io dovrei ottimare il lavoro che ho fatto di controllo nella produzione, quindi avrei bisogno della tracciabilità di due lotti, il lotto 4824 e il lotto 4751. Nat板 per il今日orfch sensitivo 162 e il lotto 4752. Grazie a tutti. Grazie a verschicoliro con la tracciabilità di due lottore a reticabilità. Grazie. Buon appetito! Grazie a tutti.